Il 28 aprile alle ore 17 alla Pinacoteca della Cassa di Risparmio di Cesena la terza edizione dell'asta Mattoni d'Artefatti organizzate dalla Fondazione Sacro Cuore di Cesena, un'ottantina d'opere all'asta di pittori di fama nazionale e internazionale. L'idea nasce dal fatto che gestire una scuola significa fondamentalmente accompagnare i ragazzi in un cammino educativo e in un cammino di conoscenza e una delle strade fondamentali per arrivare alla conoscenza è sicuramente quella della bellezza. Quindi ci è piaciuto pensare che quella bellezza che noi cerchiamo di coltivare dentro le nostre scuole potenziando la dimensione artistica, la dimensione musicale, potesse trovare anche un incontro con coloro che, soprattutto nel nostro territorio, sono stati grandi protagonisti della bellezza. Fra l'altro questo è anche un anno particolare perché molti dei grandi protagonisti della bellezza nel territorio cesenate se ne sono andati. Pensiamo per ultimi a personalità come Fioravanti, come Cancelli, come Sughi, l'anno scorso una personalità come quella di Cantori e dunque come se in questo momento il nostro territorio si sentisse un po' orfano di questa bellezza. La finalità dell'asta è chiaramente quella di trovare fondi per le nostre scuole, soprattutto per due obiettivi che ci paiono particolarmente importanti in questo momento. Uno che è l'obiettivo sicuramente prioritario è quello di trovare fondi per borse di studio da assegnare ai ragazzi le cui famiglie non siano completamente in grado di sostenere la retta di una scuola paritaria perché purtroppo per la legislazione italiana le scuole paritarie devono richiedere una retta alle famiglie.